Ciao, sono il dottor Max, in questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo. Crampi addominali, cause e sintomi. I crampi addominali sono spasmi dolorosi localizzati nella regione compresa tra il torace e linguine. Questo sintomo compare spesso in associazione con altre manifestazioni collaterali, quali diarrea, rumori gastrici percepibili dall'esterno, eruttazioni, sensazione di pienezza, stipsi o meteorismo. A seconda della causa, i crampi possono essere passeggeri, persistenti o ricorrenti. I dolori addominali crampiformi sono associati a varie condizioni patologiche che interessano il tratto gastrointestinale, ma possono essere scatenati anche da altri organi. Se compaiono nella parte centrale dell'addome, i crampi possono essere causati dalla contrazione improvvisa della muscolatura dello stomaco o dell'intestino tenue. Ciò può rappresentare una reazione verso determinati cibi, esempio, intolleranze alimentari o allergie, celiachie e difficoltà digestive. Possibili cause scatenanti sono anche lo stress e la tensione nervosa, le gastroenteriti, la diarrea del viaggiatore e la sindrome dell'intestino irritabile. Altre malattie che possono provocare dolori tipo collica e crampi sono appendicite, peritonite, tossinfezioni alimentari, come la salmonellosi, colite ulcerosa, diverticolite e cancro al colon. Tra le cause esterne al tratto gastrointestinale più comuni rientra la sindrome premestruale. I crampi nella parte inferiore dell'addome possono manifestarsi anche durante l'ovulazione e l'endometriosi. Possibili cause di crampi addominali. Crampi addominali è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni. Allergia alimentare, amebiasi, appendicite, cancro al colon, celiachia, colite ischemica, colite spastica, colite ulcerosa, diarrea del viaggiatore, diverticolo di Merkel, enterite, febbre di lassa, gastroenterite, giardiasi, morbo di Crohn, occlusione intestinale, peritonite, salmonella, salpingite, scigellosi, sindrome premestruale, sprue tropicale, trichinosi, cause rare. Angina addominale, ansia, botulismo, cancro dell'endometrio, colicistite, colite, congestione digestiva, diverticolite, endometriosi, ernia addominale, ernia inguinale, febbre emorragica di Marburg, fibrosi cistica, gravidanza ectopica, indigestione, influenza, ingestione di sostanze caustiche, intolleranza all'aptosio, intolleranze alimentari, intossicazione da monossido di carbonio, ovulazione, polipi intestinali, sindrome dell'intestino irritabile. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte. MyPersonalTrainer.it